Un pari a Melfi all'esordio, un successo da centrare in casa, che fra i professionisti manca da tanto troppo tempo. Era il 4 maggio del 2008, ultima giornata dell'allora campionato di C2, 3-1 ai danni del Bellaria. Il Teramo ha voglia e fame di calcio che conta, soprattutto vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in un torneo partito positivamente. Tuttavia, al pari in terra lucana, bisogna dare un seguito. Dunque, nel primo impegno di campionato in casa, i tre punti contro l'insidioso Gavorrano sono quasi un obbligo. Per la sfida ai Toscani di Buso, mister Cappellacci non intende stravolgere l'11 di Melfi. L'unica variazione potrebbe riguardare Petrella, in campo del primo minuto, al posto di De Stefano. Occhio al Gavorrano, piccolo comune della Maremma Toscana. Da quelle parti si fa calcio con serietà e programmazione prerogative che nel giro di pochi anni hanno proiettato il rosso-blu dai dilettanti al giro che conta. Squadra giovane, quella di Buso, con ragazzi di qualità provenienti dai vari settori giovanili della Toscana. All'esordio 0-0 in casa contro il Vigor Lamezia. Insomma, un avversario da non sottovalutare per un Teramo che vuole pensare in grande.